Benvenuti in un nuovo video, questa volta una notizia pazzesca. Da una parte abbiamo Signal, una delle app più utilizzate per la messaggistica che va a includere una privacy coin mai sentita prima. E sicuramente questa è una notizia fortissima perché farà diffondere tantissimo le criptovalute e in particolare le criptovalute con la privacy. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare e puoi iscriverti al mio canale cliccando su iscriviti e attivando la campanellina non ti perderai i miei nuovi video. Puoi anche seguirmi su Telegram, a te consapevole per quanto riguarda la tecnologia e a te consapevole cripto per quanto riguarda le criptovalute. E se ti piacciono molto i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della te consapevole Academy. Ok, allora notizia freschissima, molto interessante. Signal ha scritto in un tweet che è disponibile nella beta questo nuovo sistema di pagamenti in Signal. E se andiamo a leggere un po' i commenti, ci sono molte persone che sono un po' confuse, frastornate. Da una parte ci sono quelli che si sarebbero aspettati Bitcoin, l'IT Network, altri commenti sono arrivati dalla comunità di Monero. Di fatto l'app di Signal ha integrato un wallet per le criptovalute, ma non è un qualcosa, diciamo, di noto al pubblico. Personalmente era un nome di criptovaluta che non avevo mai sentito prima. Si chiama MobileCoin, MobileCoin, e qua ci sono alcuni screenshot di questa interfaccia che è in beta e dovrebbe essere disponibile a partire dal Regno Unito. Che dire, qui è specificato, no, non è qua, è qua. Questa criptovaluta, da quello che viene scritto su GitHub, utilizza come sistema, diciamo, di criptografia. Utilizza un qualcosa simile a quello che accade in Monero con CryptoNote. Di fatto, personalmente, non definirei questa cosa, questa MobileCoin, una criptovaluta, perché vediamo se lo trovo. Qui c'è scritto, posso eseguire un nodo validatore, e di fatto qui c'è scritto che puoi eseguirlo in modalità simulata, ma non puoi partecipare al consenso. Quindi, personalmente, questa cosa che viene definita criptovaluta non è una criptovaluta, è più che altro un sistema di pagamento. Di fatto, è veramente interessante che un'applicazione come Signal, utilizzata appunto per la messaggistica privata, vada a integrare le criptovalute e quindi la possibilità di inviare un qualcosa tra i propri contatti. E come avevo letto da qualche parte, questa criptovaluta è tradata su FTX, quindi questo exchange che si chiama appunto FTX. Che dire, questa cosa personalmente la vedo come un inizio, non la vedo sicuramente come qualcosa di testato, visto che questa criptovaluta, da quello che ho letto, è basata su Stellar e comunque non è una criptovaluta conosciuta in più. Tra l'altro, il sito di Signal accetta le donazioni e le donazioni le accetta più che altro in Bitcoin, quindi mi sembra veramente strano che abbiano introdotto questa criptovaluta sconosciuta. Tuttavia, la vedo come una notizia positiva che possa far diffondere queste criptovalute anche tra altre persone che magari non erano così abbezze nel configurare un wallet oppure installare un'applicazione dedicata a questo. E per concludere, l'altra cosa curiosa, nel data leak di Facebook che è emerso, anche Mark Zuckerberg utilizza Signal. Ultimamente c'è stato un data leak, diciamo, non è un data leak recente, però recentemente questo data leak hanno regalato a tutti i dati fuoriusciti, quindi nome, cognome, cellulare, posizione geografica e tra queste persone colpite da data leak c'è anche Mark Zuckerberg, quindi il fondatore di Facebook e alcuni hanno controllato, hanno visto che anche lui era presente su Signal, quindi il fatto che anche il fondatore di Facebook utilizzi Signal per messaggiare è sicuramente qualcosa che dovrebbe far pensare un po' tutti. È tutto, come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao a tutti!